Grazie a tutti. Sono andati in là. Adesso accendiamo pure noi. C'è il wifi gratuito, Daniela, dello spike and water. Sì, se lo cerchi, cioè spike and water free. Oggi si riempie di gente qua. Comunque, amici, buon Ferragosto a tutti. Dove la gente? Là c'è un ristorantino con le sdraie. Ci andiamo e devo rinnovare la foto del profilo. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.